Il Parcotela di Perugia ha fatto da cornice all'evento organizzato per consegnare i premi legati alla seconda edizione della Caduce d'Oro, premiati gli iscritti all'ordine dei farmacisti della provincia di Perugia da 40 e 50 anni, persone che hanno dedicato la loro vita all'esercizio della professione. Nello corso della cerimonia sono stati consegnati anche tre premi speciali ad altre tante persone, in virtù del grande impegno profuso nel tempo, piuttosto emozionante lo spazio dedicato all'aggiuramento della farmacista, una prassi rivolta ai nuovi iscritti. La giornata si è poi conclusa con una tavola rotonda sul tema della sanità, un dibattito caratterizzato dalla presenza di tanti relatori. In questo momento storico la farmacista è chiamata a contribuire alla migliore efficienza del Servizio Sanitario Nazionale in maniera ancora più decisa. Tutto ciò comporta il fatto di dover fornire con precisione una serie di servizi ai cittadini che viene definita sanità territoriale. In seguita a recenti aggiornamenti normativi, da tempo viene riconosciuta ai farmacisti stessi un ruolo importante nel processo di cura e di assistenza dei pazienti. Il confronto andato in scena alla termine della premiazione è servito quindi a fare l'appunto su aspetti molto articolati e ovviamente all'ordine del giorno. Grazie. Grazie.